Ok ragazzi, partiamo, stamattina facciamo il solito allenamento del mercoledì, che non cambia, ed è un allenamento che sarà un total body, lavoreremo a Tabata, quindi faremo 20 secondi di lavoro e 10 di recupero per una ventina di minuti e alterniamo gli esercizi, quindi parte bassa, parte alta, andremo a lavorare su tutto il corpo. Sarà un pochino più intenso, quindi teniamo il ritmo e ci saranno anche gli esercizi eventualmente ripetuti. Bene, partiamo con un po' di riscaldamento, mi raccomando sempre l'acqua e i sali minerali infusi, bruciagrassi, quello che state usando in questo momento, per l'attività. Facciamo entrare ancora qualcuno, eccoci qua, dovrebbe esserci anche, perfetto, adesso li vedo un po', li sposto qui così li vedo tutti, perfetto. Ok, partiamo con un po' di riscaldamento, intanto vi avviso che dalla prossima settimana è partita la challenge, 15 giorni, quindi potrebbe essere che durante gli allenamenti anche della mattina si aggiungano le persone che stanno facendo la challenge dei 15 giorni, quindi magari vedrete qualcuno di nuovo. Invece per voi vi avviso che c'è la possibilità di fare degli allenamenti in diretta, in particolar modo la mobilità articolare, il venerdì, quindi partiamo già questo venerdì, dalle 6 e 6 e mezza dei bruciagrassi e dalle 6 e mezza alle 7 invece la mobilità articolare, quindi uno stretching un pochino più approfondito. Andiamo avanti con le braccia e questo succederà anche nei prossimi 15 giorni, quindi dal lunedì prossimo, che il martedì e il giovedì dalle 6 ci sarà attività fisica online. Quindi avete anche la possibilità, cambiamo giro, di partecipare anche in serata. Saranno 15 giorni strong. Invece fino a fine febbraio, tutti i venerdì sera ci sarà, scegliamo, salvo, ci sarà un allenamento alle 6, quindi se volete avete questa opportunità o comunque di fare ancora almeno quella mezz'ora di mobilità articolare che serve. Che poi, diciamo, è un prolungamento di quello che facciamo a fine di solito degli allenamenti. Ok, scaldiamo bene, andiamo bene sulla punta. Ok, spinta in avanti, da fermi, su, scendo, dall'altra su, scendo. Ok, mezzo squat, sciolgo bene il bacino. Ok, andiamo giù lateralmente, stesso lato, dall'altra. Ok, bene, allora partiamo con questo allenamento un pochino più brioso e partiamo con lo squat, ok? Io faccio solo partire i tempi e faccio partire anche il suono che così ci aiuta. Ok, recuperiamo, prossimo sarà una corsetta sul posto. 3, 2, 1, ok. Calidiamo bene. Ok, prossimo andiamo a fare uno squat, basso solo un po'. Uno squat e alzata gamba, ok? Spot, alzata, spot, alzo l'alto. Tocco, tocco, tocco. 3, 2, 1, 3, 2, 1, ok. Ok, prossima di nuovo. Calciate i gluti, è un po' più movimentata, quindi sul posto si corricchia, eh. Ok, calciate i gluti. Bene, di nuovo squat, tocco ginocchio e allungo gamba. Ok, giù, tocco, giù, tocco, giù, lungo, giù, lungo, tocco, ginocchio, allungo, incrocio, allungo, incrocio. Sempre squat. Ok. Adesso, finiamo. Andiamo su e scendo. Su e vado bene giù. Su, giù. Su, giù. Per i giù in squat. Ok. Di nuovo corsetta sul posto. 3, 2, 1, via. Ok, prossimo sarà un corso praticamente mountain gamba, per dirla più facilmente. Ok, via. Tendiamo giù bene e spingo. Bene, mountain. Bene, teniamo l'intensità della spinta. Ok. In prossimo andiamo in uno squat e poi squat e saltate. Chi non riesce continua a fare squat. Via. Uno. Saltello. Uno. Saltello. Uno. Salta. Squat e saltate. Salta. Salta. Saltello. Ok. Recuperiamo. Il prossimo sarà uno squat pulsato. Bene, rivarichiamo le gambe. Arbietta, spalle. Via. Pulsiamo. Oggi è un bel crociagrassi, eh. Ogni tanto guardo basso, perché guardo nel mio computer, ma devo guardare alto nella telecamera. Scusatemi. Bene, adesso andiamo a fare, apri e chiudi in squat. Possiamo stare sul posto. Sempre a piezza, a cattura spalle. Via. Chiudo e richiudo. Da una parte, da l'altra. Prossimo è un jumping jacks. Andiamo a pre-chiudi. Potete fare anche in camminata. Via. Via. Ok. Recuperiamo. La prossima sarà. Ginocchia verso l'alto. In corsa. Via. 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 Ok. Prossimo. Recuperiamo un piatto. Un po' di pulsato e un salto. Via. Squaw. Uno. Due. Poi salto su. Uno. Due. Salto. Chi non falta può venire su comunque, senza saltare, sul salto, ok, andiamo, il prossimo sarà un plank, ci fermiamo, hold quindi isometria, ok, plank, isometrico, fermi. Recuperate il fiato, tenete l'addome contratto, ok, prossima sarà sempre in plank, rotazione da una parte dall'aria, ok, scegliamo giù, rotazione di qua, rotazione di là. Ok, torniamo su e rifacciamo un po' di jumping jacks per tenerci su. Il ritmo. Dai che oggi bruciamo tutti i panettoni delle vacanze. Ok, ok, adesso andiamo in un jumping e push. Ok, ok, 1, 2, jumping, 1, 2, jumping. Ok, bene, adesso facciamo solo pugni in posizione squat. Squat. Via. Via. Bene in posizione squat. Troppo. Ok, adesso andiamo a fare in e out, apriamo e chiudiamo posizione squat, via, chiudo, chiudo, apro, chiudo, spenno, scendo, prossimo jumping jacks, apri e chiudi, potete fare anche il camminata, via, ok, ok, ci spostiamo da un lato all'altro, pronti, ok, mi sposto di qua e poi di qua, premo un po' di velocità, ok, ok, facciamo un po' di twist, quindi ci muoviamo con i piedi uniti un po' di qua, un po' di là, punto dei piedi, ok, recuperiamo e torniamo a fare uno squat, squat profondo, bene, scendo, salgo, ok, torniamo giù in plank e facciamo in e out, cammino in avanti e cammino indietro, posizione di plank, ok, chiudo, apro, chiudo, apro, chiudo, apro, ok, recuperiamo e andiamo a fare soltertà, posizione sempre giù, tocco, tocco spalle incrociando, tocco, 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 ok, ok, per il più difficile andiamo in laterale, quindi side plank, appoggio il vomito e vado su, ok, ok, ovviamente ci giriamo di là, tanto mi prendo anche l'acqua qua, mi sali, via, ok, ok, andiamo un po' sull'addome lavorare e quindi andiamo a fare bicycle, utilizziamo solo le gambe, così riposiamo un secondo, siamo pronti, spingo, bene la schiena appoggiata, ok, ok, sempre in questa posizione andiamo a fare le scorbiciate, pronti, ok, spingo su, addome contratto, ok, bene, adesso andiamo a fare su e giù gambe, ok, giù e su, fate lavorare bene questo addome, bene, adesso facciamo esercizio di isometria, gambe distese ferme, ok, via, cercate di farle scendere un pelino, e da far lavorare le addome, troppo alti non lavora, lavorano le gambe, giù e lavoriamo con l'addome, non sforzate la schiena, bene aderente a terra, ok, bene, ci alziamo in piedi, andiamo di nuovo a fare una piccola corsetta sul posto, in scioglimento, via, avete poco di riposo eh oggi, tutto bruciamo, vediamo, vediamo che siamo oltre la metà, ok, ci riposiamo, andiamo, in pulsato, in squat pulsato, ok, viene giù, ok, torniamo invece adesso a fare lo squat classico, viene giù fino alle ginocchia, ok, vengo su, ok, vengo su, ok, prossimo sarà di nuovo jumping jacks, apri e chiudi, apri e chiudi, ok, ok, corsetta sul posto, teniamo le braccia alte, ok, ok, molto bene, il prossimo esercizio sarà invece torniamo di nuovo giù e tornare muscoli antagonisti, facciamo braccia push up con le ginocchia, bene, bene giù e salve, bene giù e salve, ok, ok, 10 secondi di recupero e andiamo a fare di nuovo mountain climbing, bene, bene addome contratto, ok, ok, adesso andiamo a fare, apri e chiudi sempre in posizione di plank e mountain in avanti, uno e uno, quindi, apro, chiudo, mountain mountain mountain, apro, chiudo, su e su, gamba, gamba, apro, chiudo, ok, molto bene, torniamo su e facciamo uno squat classico di nuovo, uno squat saltato, jump, allora, giù, vengo su, giù, salto, giù, vengo su, giù, salto, squat jump, ok, bene, andiamo a fare un hold squat, quindi ci sediamo, se volete potete appoggiarvi al muro, se no rimanete fermi, seduti, bene schiena dritta, appoggiate al muro, veniamo, ok, andiamo a fare un affondo, in avanti, però, statico, quindi, allargo bene, cerco di non far superare il ginocchio, la punta, al piede, scusate, il ginocchio, la punta, del piede, e scendio, piego, salgo, regolatemi con il ginocchio, e punto del piede, ok, sentite come tira, bene qua, e so, andiamo dall'altra, posizione, ginocchio, punto del piede, sentite come tira, ok, salgo, spingiamo in alto le braccia, quindi, prima giù braccia, poi spinta in alto, ok, scendo, spingiamo in alto le braccia, spingiamo, ok, ci siamo quasi, ragazze, ok, stessa cosa, solo che portiamo le braccia giù, unite, quindi le spingo in mezzo alle gambe, come se avessi un serbele, su, su, giù, su, piego, e vado giù, faccio ciondolare bene queste braccia, sempre controllate, sguardo in alto, scendo, pido, sempre contratto, cercate, ok, andiamo, in jumping jacks, finale, Ok, andiamo a fare il lancio alternato, quindi affondi alternati. Indietro. Ok, ecco siamo al fine. Alterno, scendi. Ok, bravissimi. Ce l'abbiamo fatta. Adesso lavoriamo un po' sullo stretching. Ci allunghiamo bene la gamba, scegliamo in questo modo, spingiamo in avanti, statico e allunghiamo bene. Ok, facciamo un po' più di secondi per esercizio. Ok, bravissime ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Un bel lavoro HIIT di brucia grassi. Ok, andiamo adesso a cambiare gamba. Restiamo un pochino di più. Spingiamo, eh? Così allunghiamo bene. Ok, ancora un pochino. Ok, cambiamo gamba. Andiamo a piegare la gamba davanti, distendiamo la gamba dietro. Ok? Ripetete la posizione, quindi la gamba è distesa dietro, piegate davanti. Tirate, eh? Chissiamo qualche secondo. In corso d'opera cercate di migliorare la posizione. Ok, andiamo adesso a cambiare lato, quindi dall'altra parte, allunghiamo dietro. Ok, posizione e partenza. 30 secondi. Ciao mamma. Ciao amore, buona scuola. C'è il mio pupetto che va a scuola. Ci vediamo dopo. Prendiamo ancora qualche secondo. Bene. Ottimo. Ci mettiamo adesso in appoggio sui talloni e distendiamo bene. Anche qui lavoriamo 30 secondi. Tenete bene. Oggi facciamo degli allunghi un pochino più importanti perché abbiamo sollecitato molto il corpo, quindi andiamo ad allungare bene la muscolatura. Ok. Andiamo giù. E veniamo su, però qui contiamo solo fino a tre. Uno, due, tre. Torniamo giù. E andiamo su. Tre, due, uno. Ok. Ci posizioniamo in quadrupedia. E muoviamo. A gatto. Mobilizzazione della colonna. Ok. Molto bene. Ancora. Andiamo adesso sulla parte finale. Quindi, solo lombari e sacrali. Ok. Andiamo su. Finocchia. Andiamo a fare rotazioni in avanti delle braccia. Ok. Dall'altra. Ultima. Ok. Saliamo su. Vediamo bene. Le precipite. Finiamo. Ancora qua. Dieci secondi. Bene. Fate lavorare anche bene la caviglia. Passiamo dall'altra. Anche qui. Fate lavorare bene la caviglia. Arrivate col tallone. Al glutei. Bene. Ok. Bene. Scendiamo. Divarichiamo. E scendiamo lateralmente. Ottimo. Proviamo a scendere ancora un pelo. Sempre dallo stesso lato. Ok. Salgo. Passo dall'altra. scendo ancora un pelo. Ok. Salgo su. Tendiamo il collo. Dai finale. Su, giù. Bene. di lato. Di lato. Ok. Mezze rotazioni. Ok. Benissimo. Ottimo lavoro. Ci vediamo. venerdì per l'attività braccia. Mi raccomando. Questo che è fondamentale. Buongiorno. 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 Grazie a tutti